Per quanto riguarda i contenuti osservatoi abbiamo aggiunto due profumazioni alle già prete, resistenti, danni, poiché il pubblico ci aveva richiesto da una bella gama di profumazione. Abbiamo la profumazione alla vaniglia, la profumazione alla cannella, sia per il trattamento delle acque nere che per il trattamento delle acque grigie. Per rimanere in tema di politica riservatoi abbiamo aggiunto alla nostra gama di prodotti la lima ProBio, ProBio perché sono prodotti completamente naturali, completamente liberali, non aggm, non cimile per l'uomo e per il mare. Si tratta di spori di batteri, di resi stabilizzati che a contatto con l'acqua e con la materia a discregarci, risvegliano, iniziano a mangiare, a riprodursi e quindi a discrecare e a togliergli l'uomo. Ecco che con un unico prodotto si ha sia il trattamento delle acque grigie che il trattamento delle acque nere, sia il liquido che il pastiglio. Con ogni prodotto biologico bisogna saperlo usare nel modo appropriato. ecco che noi siamo stati trasparenti sia sull'architettura che su tutti i materiali informativi che abbiamo dato, in quanto le scuole è in generazione dopo 24 ore. Per cui se si è abituati a svuotare il serbattorno ogni giorno, forse questo è un prodotto giusto e quando si dà il tipo tecnico alle scuole di fare il territorio di un lavoro. Avendo ampliato la gamma dei nostri prodotti abbiamo creato anche delle nuove sezioni all'interno del nostro catalogo. E' nata la sezione, per quest'anno è nata la sezione Fai da te. Apri pista della sezione Fai da te sono i nuovi prodotti della linea Flow Nanotech. Prodotti di nanotecnologia per il trattamento delle superfici a livello molecolare. Praticamente questi prodotti hanno la facoltà non solo di proteggere le superfici ma di riflessinarle a livello molecolare e atomico. Il primo prodotto di punta che introduce questa nuova sezione è un mini kit completo di tutto necessario per ripristinare gli abbrò e i rifanali in policarbonato. è completo di platorello con velcro, i due tipi di polish necessari per fare il trattamento, tre tipi di carta abrasiva, l'usare a seconda della profondità del graffio, il disco di lana e il disco di spugna. Basta avere semplicemente un trapano, quello andare a bassi cili e in dieci minuti si riesce da soli a ripristinare uno blocco. Abbiamo calcolato che in media con una profezione intera si possono ripristinare tranquillamente almeno quattro blocchi. Perché questo prodotto? Abbiamo visto che i camper che hanno una certa età, dopo qualche anno, a causa dell'espulsione termica, del sole, li ottengono valutarsi, valutarsi se vi faccio che si strisci. Oltretutto molti usano prodotti molto aggressivi per la pulizia esterna dei camper che aggrediscono le plastiche delle parti berniciate. Ecco che con questo prodotto si può riportare a nuovo quelle superficie di rame e le dare più il nostro al camper che a qualche età. Sempre nella sezione che fai da te abbiamo il prodotto per togliere i graffi dalla carrozzeria e dalle parti berniciate. Semplicissimo da usare, basta un chicco di questa pasta abrasiva e il panno, un microfiber che abbiamo in comunicazione. E questo è un prodotto per mascherare gli ologrammi che si formano sulle produzioni delle plastiche e lucidare sia plastiche, pelle, i vetri. Grazie alla loro composizione questi polini mi permettono una brillantezza al di là dell'ordine normale e permettono di trascevolare l'acqua quando provo. Oltre a proteggere per tutto il tempo la parte trattata. La grande richiesta da parte degli operatori, dei nostri agenti, abbiamo dato vita anche a Striper Nube che è un prodotto per togliere le righe nere dai camper e dai barchi dai caravan. Facilissimo da usare, molto efficace, che nel caso il vitroresino non eccessivamente con nuovezza e non datata riesce anche a togliere un po' gli alunni gialli che si possono formare con il tempo. Poi abbiamo Pulitank. Pulitank è un prodotto per prevenire e togliere le alghe, le muffe e i funghi che si possono formare sui serbatoi delle acque chiave. semplicissime da usare, da lungo effetto, consigliamo di usare ogni sei mesi. Sempre nella settimana di Fai da Terri, di cui parlavo prima, abbiamo anche il prodotto Easy 200, che è un mini kit per riparazioni di vetroresina per danni molto piccoli. In commercio ci sono già prodotti simili, però abbiamo notato che avevano formati molto grandi, che diventavano spreco di prodotti e anche di denaro, quando c'era la presenza di riparazioni molto piccole, perché una volta messo l'attivatore dentro il prodotto o lo si usava tutto o si buttava via quello che non serviva più. Ecco che con questo mini kit si ha il bicchiere, si ha l'attivatore, si ha la resina, si ha il foglio di microfibra e si possono tranquillamente fare le riparazioni piccole risparmiando il prodotto e risparmiando anche le prezze. Il foglio è anche un presidio medico-chirurgico e quest'anno ha messo in mercato un nuovissimo prodotto che si chiama Acqua Killer. È un insetticida, caricida a base acqua, completamente privo di sorpenti e di proponenti, non nocivo né per l'uomo né per tutti gli animali al sangue Carlo. Serve a peccidere, anche assolutamente, e a repellere gran parte degli insetti ma soprattutto gli acari. si usa spruzzandolo sulle varie superfici rigide, sui tessuti lavabili, non intacca e non sporca e non rovina le superfici dove viene spruzzata. Nei nostri testi di laboratorio è risultato che la durata del prodotto va dalle 4 alle 6 settimane. Noi consigliamo di fare il trattamento ogni 1-2 settimane, perché in ambienti diversi, gli ambienti sonari sono diversi, se non progetto base acqua, l'acqua può lavorare anche più facilmente, anche se il principio attivo comunque rimane sulla superficie in cui viene spruzzato. Grazie a tutti.